Applausi 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 è veramente da male. Quando la mola lui deve tirare, usa una tecnica particolare. Prende il cliente, gli dà uno cazzottone, cingsevacra e rispuzza di fuoco. Poi lo rincorre per tutta la stanza, faceva il verso dell'apulanza. Infine lo spinge dentro a una senga, la rava a bocca e lo fa fare. E mentre il cliente urla ed implora, il suo avviso di ramo, peccato solo che un poco ci cato, e dire spesso, non rende banale. Grazie. Grazie. Alfred, io la saluto, poi la vengo a trovare in saluto. Saluto lei e tutti il pubblico a casa. Vengo a trovare in saluto. Maria domani, Alfred, salutiamo la nostra sigla. Sì, già l'ho ringraziato, lo ringrazio ancora, perché mi ha fornito, tra le altre cose, anche una cameretta che tengo a casa. Funziona ancora dopo tanti anni, perché infatti i suoi mobili sono quello che sono. Lo salutiamo ancora una volta il mobilificio Nicoloro, che è il nostro sponsor di questa serata. Noi dobbiamo proprio salutare, avrei dovuto fare altre cosine. A me mi dispiace, fratelli. Ah, devo salutare a Fusca. Ah, già salutano me, da Fusca e Olimpia, se no questi non mi rilevo più dalla testa. Tony Tamaro, vi ringrazio per aver avuto la matienza di essere stati con noi fino a quest'ora per questo primo Tamar Day, cioè prima giornata dell'orgoglio Tamarro. E vi lascio con una canzone e soprattutto con un appuntamento. Speriamo di rivederci l'anno prossimo per il secondo Tamar Day. Volevo far venire qua in il studio Franco Dellina. Chi c'è rimasto di quelli là che ci stavano prima? Rientrate tutti quanti, rientrate tutti quanti, il mitico DJ Saciccio per il gran finale. Per il gran finale. Oh, qualcuno è andato via, qualcuno è rimasto. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento, non per Pasquetta, ma vi do appuntamento per quest'estate in un posto molto bello e in un posto mitico. Abbiamo anche il nostro Alfred che sta con noi, un posto molto bello e molto mitico che è la località di Scalea. Ciao fratelli, massimo rispetto e grazie per essere stati con noi al primo Tamar Day! e grazie per essere stati con noi. e grazie per essere stati con noi. e grazie per essere stati con noi. Ma come mi diverte, girare festata, cagarmi sabbat, mangiare un celato e la roba tutta in sabbat, pulirsi le mani vicino a Nubarad. Il cavale è tremendo, per restare in danno forno, quella che è razionata, è sola la maturna, la cosa più terribile che aspetto come un vesto, e quando è mezzanotte, fa mai un rinduce. Scalea, scalea, ma come mi ricrea, andare in vacanza, 10 e 2 d'intera stanza, uscire la sera, che giusto ve lo bella, andare in pizzeria, diemo al bagno, rami. Scalea, scalea, il sole che ti scotta, è bello abbronzarsi, in questa volta a volta, lasciare i vestiti, sopra ad uno scoglio, e mentre dove un bagno, sta fanno portafoglie. Capito per ringraziare la mia band, alla prima tastiera, Fabio Izzillo, alla seconda tastiera, Antonio De Feo, alla chitarra, Pinolosco, Al basso Bruno Coluccio, alla batteria Paolo Ursuoli, Simona e Luisa. Dalla voce, alla chitarra, con il lammaro. Dalla voce, alla chitarra, con il lammaro.